Si sta parlando oramai da parecchio tempo. Bisogna che ci danno dei segnali ben precisi su quello che c'è da fare e su quello che loro hanno intenzione di alleggerire. Siamo fermi, così non va bene, così non si va avanti, i nostri territori rischiano di scomparire. Vediamo che si riesca comunque a vedere qualcosa, le promesse sono state fatte tante anche in altri incontri, però vogliamo essere solifatti. Quello che si sta sbloccando oggi deve essere sbloccato un anno fa forse, ecco perché è la ragione per la quale non va. I sindaci del sisma sono arrivati carichi alla riunione ad Ancona con il commissario Piero Farabollini dopo le misure shock per dare impulso alla ricostruzione annunciate dal sottosegretario Vito Crimi ieri in audizione alla Commissione Ambiente della Camera per velocizzare le pratiche e quindi la rinascita dei territori. Il commissario da un lato conferma lo sblocco per le perimetrazioni nei comuni dove erano state stoppate, dall'altro conferma novità per accelerare le pratiche da inserire nel decreto terremoto Etna. Alcune proposte che noi abbiamo pensato per velocizzare la ricostruzione che vedono in prima linea i sindaci ovviamente richiedono delle modifiche alla normativa. Le B e le C da assegnare ai comuni ovviamente potenziando gli uffici con del personale. Queste due proposte vanno in emendamento attraverso quello che noi auspichiamo sia il prima possibile con il decreto areale Etneo. Sulla privata non basta spostare dall'ufficio ricostruzione dei comuni che già sono protagonisti nella ricostruzione privata delle leggere, ma occorre semplificare proprio il meccanismo, il metodo, trovare formule più semplici che non sia una pratica ordinaria.